ma un video nuovo 18% siamo nella pina del tibet come potete vedere si sarebbe un po sciolta ma a breve ve ne vedremo delle belle siamo percorrendo la strada del grostè con la bisettrice per il crostè poi c'è la tangenziale che porta al tucat con due metri di neve di salati d'acquina anche noi c'è la malga paolo la malga è questa guardate signori la malga dove il nostro amico paolo venia a bascere le mucche con le vecole qui abbiamo un paio di piste nere per principianti logicamente questo